Il servo di Dio Carlo Acutis diceva a Rajesh, un collaboratore domestico di religione induista convertito al cattolicesimo, è importante accostarsi quotidianamente all'eucaristia e pregare la Vergine Maria con il Santo Rosario, cercando di imitarne le virtù eroiche. Le virtù si acquisiscono principalmente attraverso una intensa vita sacramentale e l'eucaristia è sicuramente il culmine della carità perché è il cuore di Cristo ed il Signore ci fa diventare delle persone complete, fatte a sua immagine. Dio è molto contento se le anime si accostano sovente ai suoi grandi doni che sono l'eucaristia ed il sacramento della confessione. Grazie a tutti! Grazie a tutti!